Nelle vicende familiari si parla sempre di moglie, marito, figli, compagno, compagna, unioni civili, ma si parla molto poco dei nonni, che sono la figura più bella, più romantica delle nostre famiglie. Sono la nostra storia e spesso e volentieri i nonni pagano un prezzo altissimo, sono messi da parte soprattutto nelle fasi patologiche della famiglia, quindi la separazione o il divorzio, come vendetta. Magari i nonni paterni o materni sono sacrifici sull'altare di una guerra senza confine. Eppure magari quei nonni, fino a qualche tempo prima, si erano presi cura dei nipoti. E poi all'improvviso si è spenta la luce. La legge lo ritutela. La legge attribuisce ai nonni la possibilità di ricorrere anche al giudice per mantenere rapporti costanti e significativi con i loro nipoti. Ovviamente tutto questo deve coincidere anche con il diritto del minore ad avere un rapporto sano con i nonni. Mi riferisco ai nonni, ovviamente quelli che valgono, non quelli che magari hanno determinato la separazione o il divorzio, i cosiddetti suoceri che intervengono a gamba tesa nel menaggio familiare. Ma i nonni veri, i nonni buoni, i nonni generosi, quelli che in qualche modo hanno cresciuto i figli come nonni sitter, hanno diritto e secondo me anche il dovere di continuare a stare nella vita di questi bambini. Possono quindi rivolgersi al tribunale e possono chiedere non l'affidamento dei nipoti, attenzione non confondiamo i due livelli, ma la possibilità di interagire con i nipoti, vederli, incontrarli anche una volta a settimana, due volte al mese, secondo quello che stabilirà il giudice. Ma sia chiaro una cosa, in Italia ci sono 4 milioni di minorenni dai 0 ai 13 anni che sono in qualche modo parcheggiati gran parte della giornata presso i nonni, non dimentichiamolo mai, i nonni sono la spina dorsale del nostro paese.